Parliamo con il mister Stefano Manfioretti del Levico, allora un gran primo tempo del Levico, meritatamente in vantaggio, poi nel secondo tempo cos'è mancato? Questione fisica, questione psicologica e un po' la forza del Pergo? Soprattutto la forza della squadra avversaria, credo che abbia in giro sulla partita. Abbiamo calato di intensità nei primi dieci minuti del secondo tempo e il Pergo ci ha sicuramente in quel momento lì castigato. Forse, tra virgolette, se l'arbitro prendeva i provvedimenti reali su Contini, su quella gomitata volontaria in mezzo al campo e restavamo in dieci contro undici, quel momento lì forse ci si poteva credere fino in fondo. Rimane però il buon campionato del Levico, che a metà classifica tranquillo, un inizio positivo della sua squadra in questo torneo? Sì, credo che anche oggi abbiamo fatto la prestazione, abbiamo fatto bene, credo che in questo inizio campionato abbiamo anche espresso un buon gioco, per cui sono contento da questo punto di vista, perché i ragazzi ci credono in ogni momento. Pronto per il derby? Bisogna. Sì, sì. Sì. Sì.